Bella raga, qua è Savix che vi parla, bentornati in questo nuovo video e benvenuto se sei nuovo nel canale Oggi faremo il giubbino ragazzi, quello arancione non è quello particolare che era uscito con le attività versus È un altro, è carino lo stesso e perché non portarvelo Quindi unico requisito autofficina, andiamo dal tabellone e andiamo a startare ragazzi il colpo del treno Una volta che abbiamo startato il colpo del treno, quindi siamo diventati membri del Motorcycle Club o del CEO per interagire con la lavagna E anche voi avete buggato, banconote svolazzanti in questa maniera sul tabellone Andiamo ad avviare la prima inventario del treno, ok? Il colpo è caccia all'unità di controllo A questo punto una volta che andremo ad avviare l'attività, cosa facciamo? Ci dirigiamo ragazzi, qui dove ci dice l'attività dalla nave merci Vedrete che vi compare questo pallino sulla mappa ragazzi, questo mino, venite qua da questo furgoncino E poi cosa facciamo? Possiamo andare a girare sulla nave veramente tranquilli, indisturbati Toglietemi la mira assistita se siete con l'oppressor così siete tranquilli Parcheggiate ragazzi e prendete gli obiettivi Proprio in santa pace Una volta che vi siete presi tutti gli obiettivi, avete fatto la missione Rientrerete nella vostra officina Finirete la missione in questa maniera E vi rimarrà il completo addosso Niente di più facile raga A questo punto ve lo andate a salvare Ve lo salvate, lo chiamate Giubbino come volete voi E una volta che l'abbiamo salvato Ce ne andiamo poi dal nostro negozio di vestiti raga E iniziamo a fare un outfit per esempio, veloce veloce con questo Giubbino Quindi vi scegliete un outfit con cui partire Mettete una maglietta che volete voi Andiamo su Giubbotti da lavoro raga E una volta che siamo su Giubbotti da lavoro Andremo a mettere il Giubbotto quello pesca Etico pesca, è uguale L'importante è che sia quello pesca Una volta selezionato il Giubbotto pesca Non fate come ho fatto io che per sbaglio ho messo quello sabbia Quello pesca raga Andatevi a salvare l'outfit così com'è Lo salvate o nel primo o nell'ultimo slot raga A questo punto cosa facciamo Andiamo dal bancone E ci andiamo a mettere la tuta ragazzi Quella da scienziato pazzo A questo punto una volta dal cannocchiale raga Ci immergiamo la maschera Quindi corriamo verso il cannocchiale Che c'è un freccio a destra Teniamo premuto il menu interazione O touchpad se giocate da play E vi selezionate l'outfit che stiamo facendo A questo punto quando vi allontanate Verrà la maschera sulla testa Adesso raga ce ne andiamo direttamente da Amunation E una volta che siamo da Amunation Andremo a salvarci l'outfit Sempre nel primo o nell'ultimo slot raga È fondamentale A questo punto Meno di pausa E andiamo ad avviare raga Un lavoro da titano Quest'attività la possiamo avviare da sole Quindi start online Attività Avvia attività Create da Rockstar Un lavoro da titano Una volta che spawniamo all'interno dell'attività Non dovremo fare niente di particolare Semplicemente freccia a destra Qui dalla parte dei completi Raga E andiamo a salvare L'outfit così come è sempre nel primo O nell'ultimo slot Dentro l'attività Un lavoro da titano A questo punto Possiamo pure Quittare raga Il lavoro da titano Facendo AXA col telefono O X quadrato X Se giocate da PS Una volta che spawniamo In free mode Dovremmo selezionarci Il completo Da cui vogliamo prendere Il giubbino raga Quindi andiamo Sul nostro menu interazione Andiamo sullo stile Andiamo a cercarci l'outfit Che abbiamo salvato in precedenza Col giubbino Una volta selezionato O noi O un nostro amico O comunque sia Dobbiamo avviare L'attività merge O basso profilo O la file G Link in descrizione Per tutte e due Le piattaforme Sia play che Xbox Ragazzi Quindi a questo punto Vi fate invitare Dal vostro amico O entrati direttamente Voi la trovate Nei preferiti Missioni ragazzi E una volta che siamo All'interno dell'attività O noi O il nostro amico Importante che mette Come abbigliamento Completi salvati Ragazzi E una volta che siamo Qua alla selezione Degli outfit Se abbiamo messo Il completo nel primo slot Faremo una volta A destra Se invece L'abbiamo messo Nell'ultimo Faremo una volta A sinistra Quindi metteremo Questo outfit Che stiamo creando Ragazzi E una volta che siamo Spawnati all'interno Dell'attività Niente di più facile La quittiamo Subito dal telefono Una volta che Spawniamo In free mode Regà Ci andiamo Subito A cercare Una macchina Diventiamo membri O dell'MC O del CEO E una volta Dentro Lo switchiamo Quindi andiamo Sull'organizzazione Lo mettiamo Lo togliamo E quando scenderemo Sbada Bam Ragazzi Come potete vedere Avremo passato Il giubbino Non è quello Particolare Che viene con le braccia Bagate Ragazzi Però è veramente Carino Possiamo farci Qualche outfit Mi raccomando Andatevelo a salvare Se no Lo perdete Io andrò A sovrascriverlo Ragazzi Su il giubbino Su quello che abbiamo preso E mi terrò questo Per passarlo poi Sugli altri outfit Quindi ragazzi Lasciate un like Lasciate un commento Se vi è piaciuto Questo video Purtroppo Non possiamo cambiarci La maglietta Dopo Ma se volete Lo fate All'inizio Bella regà Alla prossima Sbada Bam